Ascolta il tuo corpo e ascoltandolo mettiti in una posizione davvero comoda. Inizia già ad ascoltare la musica ma ascoltala con il corpo e lascia che ti suggerisca non intellettualmente ma attraverso una reale sensazione fisica qual è la posizione comoda per te di ascolto. Non aver paura di dedicarci qualche istante è importante dai importanza alla comodità della posizione appena l'avrai trovata entra in contatto con il tuo respiro fai tre o quattro respirazioni profonde e poi per il momento lasciati semplicemente andare e collegati con i suoni della musica che senti non ascoltare solo con le orecchie ascolta con tutto il tuo corpo e poi non ascoltare Grazie a tutti. 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 e ritorna. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.